Control F11, Alessandro Banzoni Ciao a tutti, sono Giuseppe Oggi vi parlo di anteprima Anteprima Braille, così come nell'articolo di venerdì Allora, qui ho caricato Avete già ascoltato la mia sintesi Alessandro Banzoni I promessi sposi I promessi sposi Fuoto, fuoto, introduzione Allora, come scrivo nell'articolo Per, diciamo, andare nell'anteprima Braille Bisogna, per prima cosa Si accede dalla finestra di stampa Braille Quindi, per prima cosa Bisogna preparare il testo Per essere stampato in Braille Quindi, si carica un documento O si scrive qualcosa, no? Si va nel menu File Si scende giù, 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 giù Giù, giù, giù Questa no Questa è l'anteprima di stampa Quella normale La stampa inchiostro Qui Stampa Braille Invio Sto lasciando il menu Introduzione Stampa Braille Tabella predefinita Biblos 3 di 37 La tabella predefinita è ok Quindi, se non avete mai utilizzato questa finestra Le impostazioni già vanno bene così Si clicca sul pulsante Prepara Spazio 21% Preparazione del documento Braille Annulla pulsante 5% Biblos trascrive il documento Ed è preparato, per esempio Stampa 65 pagine 0 grafici 65 fogli Ok, 65 pagine Braille Allora, si clicca sul pulsante Shift tab Statute shift tab Anteprima punto 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 Pulsante Anteprima punto 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 Ok Spazio, foto, editazione E questa è Foto, cancelletto 1 Dollaro, dollaro, dollaro Alessandro Banzoni Anteprima Braille Dollaro, dollaro, dollaro I promessi sposi Fuoto Allora, questa è la Ci sono tre modalità di anteprima Biblos offre queste possibilità Allora, questa è l'anteprima testuale Così come potete vedere a schermo Chi guarda lo schermo Fuoto, dollaro, dollaro Introduzione L'anteprima testuale mostra i caratteri identici al documento di origine Ma la formattazione e l'impaginazione è propria del documento in Braille In più, vedete che ci sono Dove, dollaro Questi caratteri in blu, in verde, in rosso Qui ad esempio in rosso non ce n'è perché non ha trovato caratteri non riconosciuti Però questo, ad esempio questo dollaro Donnero, dollaro, i Donnero, dollaro Che sono due simboli che stanno a indicare Donnero, i, n Che questa parola è tutta in maiuscolo I, donnero, dollaro Ok, questi simboli in blu sono stati aggiunti da Biblos Che ha trascritto, ha tradotto, ha transcodificato, ha chiamatelo come volete Il documento di origine pronto e l'ha preparato pronto per essere stampato in Braille Ok, questa è l'anteprima testuale L'anteprima testuale serve a controllare l'impaginazione del documento se volete No? Se è venuta bene, male, così via Per i più esigenti della trascrizione, chiamiamo così Oppure potrebbe servire Quindi ho fatto venire fuori il menu contestuale di questa finestra Voi potete cliccare qui al centro della finestra col tasto destro del mouse e viene fuori questo menu Questa anteprima potrebbe servire Per essere stampata in Braille Con la stampante laser, oggetto d'inchiostro Con la stampante comune, no? Questo a che serve? Serve agli insegnanti, per esempio A seguire con la stessa impaginazione del libro cioè gli studi degli studenti non vedenti. Per esempio l'insegnante potrebbe dire vai a pagina 3 e cerca l'argomento X perché l'insegnante avendo lo stesso formato di libro anche se stampato a inchiostro ha la stessa impaginazione, ha la stessa struttura di pagine del libro Braille. Alcune stamperie fanno già questo. La seconda modalità di anteprima è questa qui. Se voi in basso nella finestra con tab, io ci sono andato con tab, però in basso qui c'è una barra dove ci sono dei comandi, tra cui questo qui che è la scelta dell'anteprima. Ora siamo nell'anteprima testuale, vado un colpetto giù. Anteprima codificata. A che serve? Se prima lì c'era scritto cancelletto 1, cancelletto è un segnanumero, no? È il simbolo per il segnanumero. Qui c'è scritto cancelletto A. Questa è un'anteprima codificata simile ai dati che biblos non sono identici, simile ai dati che biblos invierà alla stampante Braille. Ok? Questa anteprima codificata serve o per leggerlo con una barra Braille, con un display Braille, oppure per salvarlo in un formato particolare che è il formato BRF. Il formato BRF, Braille file, è un formato che serve a volte all'interscambio di file con altri software, tipo un software famosissimo in tutto il mondo, si chiama Duxbury. Ok? Quindi, se volete salvare il file preparato da biblos in formato BRF per caricarlo in altri dispositivi, per esempio, ci sono dei dispositivi portatili che possono servire anche alla lettura in Braille, tipo uno di questi si chiama Orbit Reader. Ok? Quindi, salvate questo file, lo caricate dentro Orbit Reader, per esempio, e potete leggerlo in tutte le situazioni che volete. Oppure salvate in BRF, lo date a qualche vostro amico che usa in Italia, a dire la verità, sono rarissimi, perché ormai i biblos... Vabbè, è così. Però in altri paesi, Duxbury, per esempio negli Stati Uniti, Duxbury è molto utilizzato. Così, quindi potete salvare in BRF da Biblos e trasferire il file magari a chi i Biblos ancora, però non ce l'ha. E basta. Poi c'è la terza modalità di anteprima. Questa è l'anteprima più spettacolare, ovviamente, per chi ci vede, perché mostra il documento in cella e braille. Qui, chi può vedere lo schermo, vede i puntini braille. Quindi questo è esattamente il documento, così come verrà stampato in braille. C'è la braille 25, c'è la braille 46. Infatti qui posso leggerlo con la sintesi vocale solo, con le frecce orizzontali, mi dice in quale c'è la braille mi trovo. Ok? Questo tipo di anteprima serve per esempio per imparare il braille da parte degli insegnanti, magari facendo delle prove, per imparare il sistema Biblos, per far vedere il braille ad amici, parenti, eccetera, eccetera, così, per delle cose banali, oppure per, diciamo, riprodurre in altri materiali, tipo delle lastre in qualcosa, metallo, eccetera, per musei e robe varie, così. Il testo che si voglia stampare in braille, ripeto, in altri materiali, serigrafici, ora non ho idea di quali tecniche a sbalzo si utilizzino o a goffratura si utilizzino per fare il braille su altri materiali che non sia semplicemente una carta. Quindi, così, Biblos offre queste tre possibilità. L'anteprima non è solo da vedere o da controllare, ma ci sono tante altre funzionalità, che, diciamo, satellite della stampa in braille, che possono essere utili a chi utilizza Biblos per produrre materiale in braille, così ho materiale da stampare diversamente o da copiare su altri dispositivi o da utilizzare con altri software. Ok? Se volete altre informazioni, vi invito a iscrivervi nel gruppo di Biblos su Facebook. Cercate Biblos Braille, entrando in Facebook, ovviamente, e avendo un profilo Facebook. Cercate Biblos Braille, trovate la pagina e il gruppo. Alla pagina potete dare un clic su Mi piace, così mi aiutate a farla crescere. Nel gruppo potete dare un clic sull'iscrizione e poi io vi accetto. Bene, ok. Ci sentiamo domenica prossima e venerdì prossimo per il successivo articolo che ancora non ho deciso. Ok, ciao a tutti.